Spero che il professor Figga abbia ricevuto il mio gufo. Devo informare lui e i custodi che Ranrock sa dove si trova l'ultimo deposito. Stando al gufo che ho ricevuto, Ranrock si sta muovendo più rapidamente di quanto potessimo prevedere. Questa notizia è pessima. Ci auguravamo di avere più tempo per decidere il da farsi. Sì, ascoltiamo cos'ha da dire. Professore, ha ricevuto il mio gufo. Ranrock si è impossessato dell'ultimo diario di Gradbarb. Ha ucciso Lodgok per averlo. Sa dov'è il deposito finale? Per Godric! Lodgok... Lodgok e Ranrock erano fratelli. Lodgok stava portando il diario a me. Ranrock è un mostro. Dobbiamo scoprire dov'è l'ultimo deposito. Questo cambia tutto. Ranrock ha i diari di Gradbarb e conosce la posizione del deposito finale. Ma avevamo lanciato Oblivion su Gradbarb. Tenne dei diari. Perché mai documentare tutto? Non sapeva cosa volessimo contenere. Isidora disse a Gradbarb della magia quando gli chiese di costruirle un contenitore. Ho visto i suoi ricordi. Isidora si è lasciata dietro dei ricordi. Quindi sai cosa ha fatto? I suoi ricordi mostravano cosa fece per il padre, come ho visto anche nel pensatoio del professor Rookwood. E poi una conversazione con Gradbarb, in cui spiegava la sua frustrazione dovuta ai limiti posti al suo uso della magia antica. Alla luce dei ricordi che ha visto, ritengo che il nostro giovane amico sia consapevole delle gravi circostanze in cui ci ritroviamo. La prossima prova richiederà un livello eccelso di abilità magica e la capacità di interagire al meglio con vari animali. Trova un volto di pietra e dei viticci. Sappi che dovrai affrontare gli animali che fan parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Il professor Bacardi aspetterà il suo pensatoio. Livello eccelso di abilità magica? Capacità di interagire al meglio con i vari animali? Suppongo dovremmo iniziare la ricerca di questo volto di pietra e viticci, qualunque cosa sia. D'accordo. La professoressa Weasley mi sta tenendo d'occhio. Forse è meglio incontrarsi direttamente lì. Non diamo l'emotivo di correre dal professor Black. Ci vediamo vicino alla costa. Forse potrai dirmi qualcosa in più sui ricordi di Isidora a cui hai assistito. Ah, sei qui. Buone notizie. Non ci saranno seguaci di Rarrock a metterci i bastoni tra le ruote. D'altro canto, questo può voler dire che hanno già tutte le informazioni di cui hanno bisogno. Rebellion! A questo posto non farebbe male una bella potata. Diamo un'occhiata in giro. Confringo! Quello è un... Ma certo, ho capito cosa c'è da fare. Riconosci quella testa scolpita lì? Sembra un Grapporn. E tutte quelle impronte scavate nel terreno mi portano a pensare che servirà proprio un Grapporn per aprire la strada. Ecco cosa intendeva il professor Rackham quando parlava di capacità di interagire con gli animali. Così sembrerebbe. So che qui vicino vive l'ultimo di una lunga dinastia di Grapporn. Lo chiamano il Signore delle Rive. Temo che dovrai portarlo qui. Cosa accadrà poi, non so proprio dirtelo. Lei ha mai domato un Grapporn, professore? Sì, anni fa. A Stonehenge, per giunta. Il ministero è ancora in debito con me per quel favore. Non è un'impresa facile, ovviamente, data alla loro mole, ma neanche impossibile. So per esperienza che molti incantesimi non avranno alcun effetto. Dovrai cercare di sfiancarlo. Bene. Farò ciò che va fatto. Ottimo. Conosco abbastanza bene questa zona. Cerca i resti di una grande creatura marina. È lì che devi andare. Il professor Racka mi ha detto chiaramente che devi affrontare gli animali che fan parte della prova senza l'aiuto di nessuno. Quindi ti auguro buona fortuna. Attenderò il tuo ritorno alla Sala delle Mappe. Un'altra avventura ti aspetta, eh? Un castello... Deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi. Deve essere questo il posto. Molto bene, signore delle rive. Fatti vedere. Deve essere stato davvero imponente ai suoi tempi. �러zufando le informazioni ai suoi tempi. Expediati! Configo! Ci siamo per l'arte! Difingosi! Difingosi! Incegno! Bombarda! Non lo so! Deci! Bombarda! Ormai non lo so! Deci! Difingosi! Bombarda! Difingosi! Incegno! Bombarda! Riverdo! Arresto! Expediati! Incegno! Devi aiutarmi, amico mio. Pingosi! Grazie! Grazie! Espesorio! Siostrano! O inizial! Oh! Onze! Onze! Più veloce! Bracconiere! Vediamo come la prenderà il Signore delle Rive quando scoprirà che il suo territorio è stato il nostro. Non fringa! Non fringa! Non fringa! Non fringa! Non fringa! Quella donna, eh? Quella fissata con Merlino! Non dovresti impischiarti negli occhi! Ah, Signore! Stai ardendo di rabbia? Glatus! Proseguo! L'Elioso! Non mi farò sballare in giro a tuo piacimento! Questo non basterà a fermare il Signore delle Rive. Nell'Ilmo di questa fugata. L'Ornoglio di questa fugata. L'Ornoglio di questa fugata. Il suo territorio ci serviva! L'Elioso! 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 Che vi piaccia o no, attraverseremo quel ponte Spero che tu non... Non avevo mai vinto Esercito di piante Ma meglio che non si tratti di uno schermo Eh, sei il piccolo bastardo che ha salvato la terra Quello che hai fatto a degli animali indifesi è vergognoso È ora che ve ne andiate Ora parla Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Forse il professor Raka mi ha fatto bene a fidarsi di te Io ho ancora qualche riserva, però Isidora, come vedrai, non era ciò che sembrava Posso solo sperare che tu lo sia Nei miei ricordi troverai risposta a qualsiasi domanda tu possa avere sul potere che devi proteggere Grazie, professor Bakar Ci rivediamo alla sala delle mappe Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Isidora 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 Oh, signor Morgan, Akio Signor Morgan, Akio San, bene sei qui Isidora Isidora, Isidora, Isidora non era in casa Devi tornare immediatamente alla sala comune D'accordo Isidora, 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 Isidora Studenti, Isidora. Tutti quanti soffrono. E perché? Per la vostra arroganza. La vostra ossessione per i segreti. Ora non soffriranno mai più. Né mio padre, né i miei studenti. Nessuno. Isidora. Posa subito la bacchetta. Professore, mi avete insegnato a usare il mio potere. Non a sprecarlo inutilmente. Io non ti ho insegnato questo. Expelliarmus! Abba da Kedavra! È ancora viva. Perchetto. Perchetto. SILVAR Le caverne sotto Hogwarts, quelle della battaglia contro Isidora, è lì che si trova il deposito finale. Sì, non potevamo distruggere i trefoli di emozioni che Isidora aveva rubato a tante persone. Quindi ciò che abbiamo fatto è stato tenerli al sicuro. Capimmo inoltre che finché non fosse stato possibile distruggerli, anche la magia utilizzata per crearli avrebbe messo a rischio la stirpe dei maghi. Di conseguenza siamo diventati custodi, custodi di un segreto imperscrutabile. Sapevamo che un giorno una persona in grado di vedere le tracce di magia antica sarebbe potuta cadere vittima del suo fascino. Abbiamo creato le prove per condurla a noi e permetterle di dimostrarsi degna della conoscenza che abbiamo tenuto nascosta e delle responsabilità che a essa si accompagnano. Non mi sono dimostrato all'altezza, professore. Devo arrivare a quel deposito prima di Rarok. Sì, l'hai fatto e lo farai ancora, ma il deposito è protetto da una magia antica molto potente. Per accedere devi creare una bacchetta speciale usando i quattro manufatti che hai trovato sopra i nostri pensatoi. Quindi per ora il deposito è al sicuro da Rarok. Se egli, come sospetti, è in grado di sfruttare il potere dell'altro deposito, allora temo che riuscirà a superare le nostre difese. Allora devo affrettarmi a creare la bacchetta. Forse il signor Olivander mi aiuterà. Un altro Olivander non mi sorprende e sono anche sicuro che ti dirà che questa bacchetta può essere usata solo per un unico scopo. Torna con la bacchetta e apriremo il passaggio per proseguire. Invierò un gufo a Olivander e mentre sei da lui avvertirò la professoressa Weasley. La professoressa Weasley? Sì, forse ho sbagliato a non informarla prima delle intenzioni di Rarok. Spero solo che non sia troppo tardi. Se Rarok ha davvero intenzione di trivellare sotto Hogwarts, ci servirà tutto l'aiuto possibile. D'accordo, professore. Ci vediamo presto. Ciao.